Gentili telespettatori, buona giornata. Io ho un'impressione. Questo governo Draghi, governo di larghe intese, a me sembra un'altra cosa. A me sembra molto, dopo un mese dal suo inizio, un governo di centrodestra. Come se ci fosse un governo dove ha vinto la Lega e Fratelli d'Italia e Berlusconi, siano andati al governo decidendo di mettere un esterno, di mettere Mario Draghi. Sembra proprio come vedere il Conte 1, il governo Conte 1, dove c'era Di Maio e Salvini, due vicepremier, che avevano messo Conte per derimere eventuali problemi sul contratto. Anche se sarebbe poi spettato al Movimento 5 Stelle e al capo dei 5 Stelle essere il premier. Avremmo dovuto avere premier Di Maio, immaginate un po'. Sembra tanto la riedizione del governo Conte 1, dove c'è Draghi con due vicepremier, Giorgia Meloni dall'esterno e Matteo Salvini dall'interno. Ascolta solo loro, anche perché sono gli unici che parlano. Fanno delle proposte, sia Salvini sia Meloni, continuano a proporre su tutto, su qualsiasi cosa, loro dicono la loro idea, non la impongono, non dicono si fa così e basta, ci devi rispondere. Propongono, propongono, propongono tramite giornali e televisioni. Ovviamente Draghi ascolta queste proposte. Draghi è una persona trasversale, in questo momento apolitica, anche se non lo è, in questo momento è apolitico e pertanto prende appunti e le cose che reputa di buon senso le applica. Abbiamo visto molte cose che ha fatto questo governo che sono date dai suggerimenti di Meloni e Salvini. A volte di tutti e due assieme, quindi a volte è difficile dire ha ascoltato Meloni e ha ascoltato Salvini perché i due leader e il loro elettorato sono molto sovrapponibili. Anche all'interno del canale c'è l'elettorato che dalla Lega va verso Fratelli d'Italia, che poi ritorna alla Lega. È un elettorato che più che il partito segue il leader, perché le idee sono molto simili, se non a volte identiche, e quindi gli elettori cambiano tra un partito e l'altro a secondo se gli piace di più in quel momento il leader, quello che sta dicendo, quello che sta facendo. E così sembra proprio un governo di centrodestra dove i due vicepremier sono veramente quelli che comandano, Salvini e Meloni. Naturalmente poi l'ultima parola è sempre quella dei Draghi. Certo che voi direte, ma gli altri non propongono, gli altri non propongono. Avete sentito proposte da Renzi? Avete sentito proposte da Calenda? Avete sentito proposte da Di Maio? Avete sentito proposte da Letta? Beh, su Letta stendiamo un velo pietoso sulle proposte di Letta perché ci hanno fatto ridere per diversi giorni, no? Lo Iussoli, il voto ai sedicenni e la legge elettorale da cambiare, insomma. E pensate che ieri è andato a ripeterle anche a Draghi, è andato in colloquio con Draghi e Draghi si è trapelato che è abbastanza innervosito da questo Letta perché appunto Letta si è dato questo ruolo dell'anti-Salvini, l'antagonista, e ogni mattina si sveglia e deve dire qualcosa contro Salvini, non sa cosa dire e si inventa le cose, tira fuori delle cose assurde. Beh, insomma, questo atteggiamento sta dando fastidio a Draghi perché dice ma come? Nel Conte 1 c'erano i 5 Stelle con i no che hanno impedito Salvini di governare. Nel Conte 2 c'era Renzi che voleva accacciare Conte. Adesso mi trovo Letta che fa l'antagonista di Salvini anche in maniera abbastanza ridicola e penosa e viene poi a proporre lo Iussoli, la legge elettorale, il voto ai sedicenni. Naturalmente Draghi non avrà detto quasi niente sulle proposte di Letta, ha detto ah sì, ah ok. No, il voto ai sedicenni è detto ah sì 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 certo, sì sì, poi vediamo, poi vediamo. Dopo l'incontro Draghi avrà detto ma questo qua, ma che roba è? Ma che cosa sono queste proposte? Poi vi farò un video dove vi racconto anche che all'interno del PD hanno detto ma queste qui sono veramente delle bip, siamo in mezzo alla pandemia e questo viene a raccontare queste cavolate. Non hanno detto cavolate, hanno detto un'altra cosa che inizia con la C. Ecco, questo per farvi capire che anche nel PD hanno detto non è possibile, non è possibile, ne arriva un altro che è peggio di quello di prima. Quello di prima era aria fritta, questo invece dice delle cose senza senso, no? Beh, un degno erede al trono del PD. Quindi a me sembra tanto, come vi dicevo prima, un governo di centrodestra con i vice Salvini e Meloni. Intanto parlando sempre di centrodestra, Viktor Orban ha ripreso i contatti con Salvini dopo l'addio al PPE, insieme con un nuovo partito nazionalista europeo. Dopo che circa 20 giorni fa aveva scritto a Giorgia Meloni, Lodandola. Diciamo che Orban ha sempre avuto un debole per la destra o il centrodestra italiano. Era partito con questa infatuazione politica per Salvini, che lo guardava ai tempi dei decreti sicurezza. Orban guardava Salvini come il salvatore della patria anche sua. Ecco, insomma, diciamo che Orban ha sempre avuto un debole per l'Italia e per il centrodestra, soprattutto per Salvini e anche per Giorgia Meloni. Quindi dopo aver scritto a Meloni adesso è ritornato a scrivere a Salvini, facciamo un nuovo partito nazionalista europeo, che alla fine il partito nazionalista europeo c'è già, sono i conservatori. Quella con cui è a capo Giorgia Meloni è già il partito nazionalista conservatore, almeno. Questo a me sembra. E così, dopo l'addio al Partito Popolare europeo, Viktor Orban si guarda intorno. Il premier ungherese sa già su chi puntare, Matteo Salvini e Mateusz Marowiczek. Orban, infatti, intende lavorare insieme ai partiti del suo stesso orientamento in Italia e Polonia per riorganizzare la destra europea. Pianificheremo insieme il futuro, ha precisato la radio pubblica, allontanando così l'ipotesi di entrare a far parte del partito conservatore europeo, presieduto da Giorgia Meloni. Le interlocuzioni sono in stato molto avanzato, è questione di giorni, dicevano infatti fonti di ECR, intenzionato almeno all'epoca ad accogliere a braccia aperte Fides, il partito di Viktor Orban. Invece Orban preferisce unirsi in Europa alla Lega, lasciando così intendere che se Salvini accettasse anche per Silvio Berlusconi sarebbe una disfatta, dice il numero uno di Forza Italia non ha mai nascosto la volontà di portare la Lega all'interno del PPE, a maggior ragione ora che l'Unione Civica Ungherese lascia. Però su questa possibilità non lo so, non lo so da dove andrà la Lega. Alla Lega in Europa interessa andare in un posto dove viene accettata e non contrastata e fondare un nuovo partito di nazionalisti secondo me è più controproducente che positivo, però è la mia opinione. Io vi ringrazio per avermi ascoltato e vi auguro buon proseguimento di giornata. Arrivederci, a presto.